Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Come sempre sono in compagnia di Shark13 Ciao Ciao Shark Oggi ci troviamo in questa prigione Dove ci hanno messo dentro Non so per quale motivo Per un qualcosa che abbiamo fatto Ma noi cosa faremo Shark? Scapperemo Subito abbiamo trovato una via di uscita Veramente l'hai trovata tu Io ti ho semplicemente seguito Ma hai visto che io c'è Allora Io ho la mia felpa Però sotto Sì il vestito di uno Che hanno messo Di un prigioniero Esattamente infatti mi stavo chiedendo Come mai tu non avessi la È perché ce l'ho sotto Infatti vedi che sotto ho ragione Ecco qui ci sono i nostri compagni Che ci stanno aiutando Infatti stanno dicendo che bisogna arrampicarsi Tu solo che hai solo una maglietta Io invece no E io non riesco a arrampicarmi Ecco ce l'ho fatta Ecco dove stai Ah eccoti Corri Andiamo a destra Tu vai a sinistra Ecco infatti ero a sinistra Corri 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 Ah torna indietro Perfetto Quindi qui molto probabilmente Ci sono delle Delle celle Che si possono aprire Ma come stanno a dormire il poliziotto qui E come facciamo ad aprirle però Se io lo salto Si si salta Si salta lì a destra C'è quella che io sto all'acqua Ah sei l'acqua Dove sei? E' superato il poliziotto? No Ah perfetto Capisco come lo devo superare E' lì a sinistra I passi Salti la luce Devi saltare Praticamente Fatto Non scivolare Ci provano a scivolare Dove stai? E nei bagni forse? Io sto qui ai tavoli No ti ha detto? Ah attiva il fuoco Porca miseria Come faccio a schivare il fuoco qui? Ah bisogna saltare Perfetto E' ecco qui Attento che qui per le scale c'è il fuoco Quindi qui passi a destra E qui non lo so perché Ancora non lo fa A sinistra Da dove si deve andare? Destra Quindi destra Sinistra Destra Non ho capito Il fuoco che incontri Sali sulla sinistra Sali Sali sulla destra Qui invece? No io non sto capendo No Vabbè qua si deve andare alla porta giusta E proviamo No Questa Nemmeno quella Nelmeno Proviamo la seconda No No Non le proviamo tutte No Questa? Neanche L'ultima a destra Shark? Si Ok l'ultima a destra Oh Che è successo? Non lasciare che le guardie ti vedano Ecco Ecco perché Ah stanno lì Io passo di qua Io l'ho fatto Porca miseria Dove bisogna andare Ah lì Oh scusate Non l'avevo visto Ok Dove sei Shark? Eh io sto qui Dove stanno? Io sono qui ai bagni Ah ecco Ah ecco Di Shark Scendi e scale E poi Qua a sinistra Ecco io l'ho fatto Ah qui al centro Pretumo Ok Ok qui a destra Qui a sinistra Qui a destra E andiamo Oh chi è? Che Porca miseria Ma comunque Ragazzi Qui è abbastanza complicato Uscire Eh It's dopo Ci sarà una cosa Molto più complicata E come faccio? Ci aiutò? Aspetta ma quella Ha una chiave Ah una chiave Eccola Dove io non l'ho presa Sul tavolo C'è una chiave Io non l'ho presa Aspetta devo fare il genere Aspettami Eh io non so come prenderla Eh io non la posso prendere Vabbè It's Sti cavoli esci Tanto la chiave Non serve Eh ma se c'è la chiave Eh No ma la prende Ma non mi fa uscire È per bellezza Come faccio a uscire? Non lo so Eh bisogna andarci Ah si bisogna andarci sopra Perfetto Io faccio Così Dove stai? Ho preso la chiave Ho preso la chiave E io senza chiave Sono entrato Eh C'è che quello Si chiama Fortuna Eh Quello sta dormendo Buongiorno Si sta dormendo Perché è convinto Che comunque sia Ci sono i laser Che fanno il lavoro Al posto suo Invece Eh si ma lo posso Mettere un po' più stretto Dove bisogna andare? Qui? Presumo nel condotto Dell'aria Lì bisogna andare Seguimi Shark Hai visto? Se ti riesco Ah ecco ti Sei arrivato Sei arrivato? Eccoti Andiamo Qui? Sinistra Destra Andiamo a sinistra Seguate oggi Oggi sei più forte Ecco Ho parlato Andiamo di qua Tu proprio direttamente Nell'acido Sei caduto No Qui ci troviamo Nelle fogne Senti Non ci sente nessuno Solo noi Mi pare un po' troppo easy Sì vabbè Ma perché Cioè hai parlato Io l'ho fatto Sera Lo fio in fondo? Sì Sto qui a questo filo Bisogna arrampicarsi Presumo così Sì 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 A me Aspetta Mi è morto Quando stavo Mi stavo arrampicando Ah Attenzione Qui la vedo un po' Qui Non bisogna farsi vedere Aspetta Aspetta che è qui Ok Va bene Non niente di complicato Corri Dove stai? Sto in fondo Ecco fatto No Annalizzato Lascia Non ho capito un cavolo Ok Lasciami indietro Salli La corda Al cancello Ci hanno una traduzione Salli la corda Quindi cosa vuole intendere? Se vado con l'acqua Sicuramente moriamo Ma io qui non vedo Taglia la corda Magari Dove vado qui? No Qui Al muro Devi far così Ah bisogna Ah perfetto Ah perfetto Ah mamma mia Senza di me Non ce l'avresti fatta Esattamente USK Addirittura Anche l'applauso Perché siamo riusciti A scappare Da questa Prigione Impossibile La prigione Di H-Trats Va bene ragazzi Se il video vi piacere Lasciate un bellissimo like Come sempre Vi ricordo Di iscrivervi Al nostro canale Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao